Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai, io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. All'inizio del mese scorso abbiamo parlato della dissonanza e abbiamo detto che è qualcosa di assolutamente negativo che dovete assolutamente cercare di evitare di inserire nel vostro racconto. La dissonanza però si porta dietro un concetto gemello che al contrario non solo è positivo per il vostro racconto ma siete caldamente incoraggiati a inserire volontariamente per aumentare l'immersione dei giocatori. Questa settimana quindi andiamo a parlare della risonanza delle informazioni. Per chi si fosse perso il video del mese scorso diciamo che la dissonanza è quando due elementi del gioco vanno a fornire informazioni contrastanti ai giocatori. Per chi non avesse visto il video e lo volesse recuperare vi metto il link qua in alto. Ora la risonanza come dicevo è appunto il concetto contrario quando due elementi distinti del gioco vanno a fornire la stessa informazione ai giocatori. Se da una parte il master non deve mai inserire effetti dissonanti all'interno del suo racconto dall'altra il master è caldamente incoraggiato a inserire effetti di risonanza nella storia che sta raccontando anzi dovrebbe attivamente sforzarsi di sottolineare i concetti più importanti all'interno della quest proprio con un effetto di risonanza. Il modo migliore per farlo ovviamente è lo show don't tell anche di quello abbiamo parlato in un video precedente anche di quello vi metto il link qua in alto se dovete andarlo a recuperare. Però in parole povere il master dovrebbe cercare di mettere i giocatori in delle situazioni in cui gli viene comunicata più volte la stessa informazione attraverso canali diversi. Se ad esempio la quest riguarda il fatto che ci sono dei pirati che attaccano le navi quando escono dal porto, i giocatori al porto potrebbero vedere dei soldati che perquisiscono le navi in cerca di merce di contrabbando, potrebbero vedere dei manifesti con la taglia in cui le autorità stanno attivamente ricercando i pirati e magari quando vanno nella locanda al molo scopriranno che i prezzi sono aumentati perché l'attività dei pirati rende più difficile far arrivare merce in città. Questi tre elementi, le guardie che perquisiscono le navi, i manifesti di taglia attaccati alle pareti e i prezzi aumentati alla locanda, di per sé sono tre momenti della quest distinti, ma in realtà stanno comunicando tutti ai giocatori la stessa informazione, cioè i pirati stanno causando dei problemi. Come nel caso della dissonanza, qualunque elemento può entrare in risonanza con qualunque altro elemento all'interno del gioco, che sia un elemento della meccanica del gioco, una regola, una capacità speciale, comunque una delle componenti numeriche del gioco, mettiamola così, come può essere un elemento della storia o della lore che c'è dietro quella storia. Prendiamo come esempio gli elfi di Dungeons & Dragons, che dovrebbe essere qualcosa di conosciuto alla maggior parte, almeno. In Dungeons & Dragons, nella lore della maggior parte delle ambientazioni, gli elfi non dormono, si limitano a meditare per qualche ora, ma non cadono addormentati come le altre razze. Ora, se noi andiamo a prendere un elfo dal punto di vista della meccanica, dalle regole che governano, un giocatore che voglia farsi un personaggio elfo, vedrà che sulla sua scheda c'è proprio una regola che dice che lui non deve dormire per otto ore per riposare, gliene bastano due. Tra l'altro ci sarà anche un'altra regola che gli dà un bonus ai tiri salvezza contro gli effetti di sonno. Queste due regole sono in risonanza tra di loro. Entrambe stanno dicendo al giocatore che gli elfi non dormono e sono a loro volta in risonanza con l'elemento di lore che dice che gli elfi non dormano. Se gli elfi sono importanti nella trama del master, o comunque è importante questo fatto che gli elfi non dormano, il master potrebbe ulteriormente sotto in ealdo con altri elementi che vadano in risonanza. I giocatori girando per il villaggio vedranno che la bottega del commerciante elfo è aperta anche tutta la notte, perché tanto il proprietario non ha bisogno di dormire. o la volta che i giocatori sono ospitati a casa del PNG elfo, loro alleato, scopriranno che devono comunque dormire nel sacco a pelo per terra, perché la casa non ha una camera da letto e non ha neanche una camera da letto per gli ospiti, dato che l'elfo quando si sente un po' stanco si siede su una poltrona davanti a una finestra e guarda il paesaggio per due ore. È molto più probabile che i giocatori si ricordino delle regole che dicono che gli elfi non dormano dopo che i loro personaggi hanno vissuto questa scena in cui hanno dovuto dormire per terra in casa di un ospite. Al di là di questo potrebbe anche essere semplicemente un momento buffo per alleggerire una storia più pesante, o anche una scusa per far fare del ruolismo interno al party. Magari i personaggi potrebbero lamentarsi della sistemazione tutti tranne l'unico elfo del party che invece è molto felice perché finalmente è un posto dove si può meditare decentemente. Una situazione del genere potrebbe dare a sua volta origine ad altri effetti di risonanza. I giocatori potrebbero chiedere perché non ci sono stanze da letto e magari sarà un altro dei giocatori quello che gioca l'elfo a voltarsi e spiegare il fatto che gli elfi non dormano. Magari sottolineando il fatto che dovrebbero già essersene resi conto dato che tutti i turni riguardia li fa lui perché l'unico che non dorme nel party. Questa è una questione minima ma qualunque elemento che debba essere molto importante per la quest può subire uno stesso trattamento di risonanza per essere amplificato all'interno del racconto. Uno dei metodi migliori per usare la risonanza è quello di usarla per andare ad anticipare delle informazioni che i giocatori avranno poi bisogno di utilizzare in un momento secondario della quest più avanti lungo la linea narrativa. Diciamo per esempio che la storia del master è... la bella principessa è stata rapita dal malvagio barone che vuole rinchiudarla nella torre. Il master a questo punto potrebbe far incontrare la principessa ai giocatori prima magari nel primo atto della quest loro avranno a che fare con la principessa e la principessa verrà descritta come molto bella. Mentre i giocatori sono a corte per fare gli incarichi della principessa sentiranno dei pettegolezzi secondo cui il malvagio barone voleva sposare la principessa ma lei l'ha rifiutato così quando poi nel secondo atto la principessa verrà rapita probabilmente saranno gli stessi giocatori a dire ah sarà stato il malvagio barone incazzato perché la principessa l'ha rifiutato e anche se non lo diranno loro quando qualcuno dirà abbiamo scoperto che è stato il malvagio barone si scatenerà questo effetto di risonanza cioè sapevano già che il malvagio barone aveva delle mire sulla principessa sembra perfettamente razionale che adesso l'abbia rapita. Molto probabilmente se il master ha fatto bene il suo lavoro i giocatori potrebbero già anche sapere che l'ha portata nella torre perché il master va fatto in modo che nel corso di una delle avventure precedenti i giocatori andassero a questa torre o passassero lì nella zona vicino in modo che il master potesse dire che ah laggiù c'è una torre che è di proprietà del malvagio barone. L'idea iniziale della quest non è nulla di che anzi è particolarmente banale però usando bene gli effetti di risonanza il master può venderla ai giocatori in maniera molto più verosimile e può anche fare in modo che i giocatori ricostruiscano buona parte della trama da soli senza bisogno dell'intervento del master in modo da gratificare i giocatori che sono arrivati da soli alla soluzione e quindi rendere la quest molto apprezzata anche se di per sé la linea narrativa principale non è tutto sto granché. Il master può sfruttare questi effetti di risonanza anche per motivi molto più pratici ad esempio per comunicare direttamente una meccanica del gioco o una questione rilevante all'interno delle regole senza però andare a spezzare l'immersione dei suoi giocatori senza infrangere la quarta parete e parlare proprio di regole magari durante un momento di interpretazione. Nel video sulla dissonanza abbiamo visto quanto nel D20 system sia banale risuscitare i morti. Ovviamente risuscitare un personaggio morto è un'azione meccanica all'interno del gioco. Il giocatore dovrà usare una determinata abilità l'incantesimo di risurrezione bruciarsi delle risorse che sono i soldi per ripristinare la vita di un alleato ucciso. Questo è appunto il livello più basso, il livello della meccanica del gioco. Però il master potrebbe introdurre questo concetto magari a un gruppo di giocatori novizi usando un effetto di risonanza che è molto più facile che ricordino. Magari in una delle loro prime avventure assisteranno alla resurrezione di qualche png. Magari saranno proprio loro quelli che dovranno scortare il diamantone che fa da componente materiale per l'incantesimo fino alla chiesa dove l'incantesimo verrà lanciato. O magari prima di partire per il loro primo dungeon verranno fermati dal chierico del villaggio che gli chiederà in maniera molto diretta se non vogliono farsi un'assicurazione di resurrezione nel caso uno di loro muoia. In un'ambientazione di D&D classico sono delle situazioni che potrebbero normalmente accadere perfettamente verosimili e in questo modo il master ha spiegato una meccanica di gioco senza mai fare riferimento diretto alle regole. Ci sono ovviamente tecniche specifiche per rendere bene la risonanza all'interno della propria quest e fare in modo che sia più apprezzata anche dai giocatori e fare in modo che sia più incisiva all'interno della storia. Però le spiegheremo in un altro video sarebbero troppo lunghe più avanti dobbiamo prima parlare di altri argomenti. Volevo far uscire questo video prima intanto per anticipare l'argomento e chiarire il concetto e poi ovviamente perché mi servirà come risonanza quando usciranno quegli altri video. Eh? Diciamo che per questo video è tutto. Ovviamente mi piacerebbe sapere da voi se già conoscevate il concetto di risonanza, se lo utilizzavate, come lo utilizzate, se non lo utilizzate, perché non lo utilizzate. Scrivete tutto nei commenti qua sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche. Io sono il Master Ka e noi ci vediamo al prossimo video.